Ciao a tutti i miei amici italiani! Come sapete domani, il 25 maggio, ci sarà un importante incontro calcistico proprio a Tirana dove giocherà la Roma. Quindi io so che tantissimi italiani hanno comprato il biglietto per vedere questo incontro calcistico che si svolgerà a Tirana. Per questo motivo io sto facendo adesso un video sul glossario del calcio nella lingua albanese per tutti voi. Quindi cominciamo! Futboli, futboli, il calcio. Ndesie futboli, ndesie futboli, incontro di calcio. Fuscia, il campo. Echipi i futbolit, la squadra di calcio. Futbolisti, futbolisti, il calciatore. Goli, golli, il gol. Porta, porta, la porta. Koha, koha, il tempo. Koha shtes, il tempo supplementare. Penaltia, il rigore. Portieri, portieri, il portiere. Sulmuesi, l'attacante. Mbrojtesi, il difensore. Mesfushori, mesfushori, il centrocampista. Arbitri, arbitri, l'arbitro. Fauli, fauli, il falo. Kartoni verdh. Karton i verdh. Kartellino giallo. Karton i kujq. Karton i kujq. Kartellino rosso. Jasht loje. Jasht loje. Fuori gjoko. Stadiumi. Stadiumi. Lo stadio. Ku i vediamo alcune domande. Ad esempio, ku është stadiumi? Ku është stadiumi? Dove si trova lo stadio? Sa kushton bileta? Sa kushton bileta? Quanto kosta il bileto? Ku është hyrja? Ku është hyrja? Dove si trova l'ingreso? Ku është stadiumi? Dove si trova l'ingreso? Allora, ripetiamo cosa abbiamo imparato in questo video. Quindi, alcune parole, glossario del calcio in albanese. Quindi, futboli, il calcio. Ndeshye futboli, incontro di calcio. Fusha, il campo. Equipi, i futbolit. La squadra di calcio. Futboli, il calciatore. Goli, il gol. Porta, la porta. Coha, il tempo. Coha shtës, il tempo supplementare. Penaltia, il rigore. Portieri, il portiere. Sul muesi, l'attaccante. Mbrojtësi, il difensore. Mesfushori, il centrocampista. Arbitri, l'arbitro. Fauli, il falo. Kartoni verdh, cartelino giallo. Kartoni kuj, cartelino rosso. Gjaštloje, fuori gioco. Stadiumi, lo stadio. E poi, le alcune domande. Ku er stadiumi? Dove si trova lo stadio? Sa kushton biljeta? Quanto costa il biljeto? Ku er sturya? Dove si trova l'ingresso? E l'ultimo, ku er stadya? Dov'è l'uscita? Grazie mille per avermi seguito in questi video. E vi prego, se vi piacciono i miei video, iscriviti sul mio canale Viola DJ. Mi potete trovare su Facebook. Ho la mia pagina Facebook, Let's Learn Albanian. Il gruppo Facebook, Learn Albanian with Viola. Instagram, Learn Albanian with Viola. Twitter, Alp with Viola. E anche il mio indirizzo e-mail, come vedete, gilbegai.gmail.com Scrivetemi e imparate la lingua albanese. Mi ropavci!